Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. In A11 verso Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Verso Firenze, rallentamenti tra Prato Est e l'allacciamento con l'A1 e code tra Firenze Nord e Peretola. In A1 verso Roma, un chilometro di coda per lavori tra Sasso Marconi e il Bivio con la variante di Vali con la Quercia. Code a tratti tra Calenzano e Incisa Reggello e rallentamenti tra Valdarno e Arezzo. In Fipilì verso Firenze, un chilometro di coda per lavori tra Empoli ed Empoli Est. Rallentamenti per un veicolo fermo tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. E 4 chilometri di coda per un incidente al chilometro 2600 tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Sulla strada statale 223 di Paganico, chiuso un tratto della carreggiata in direzione Grosseto a Campagnatico per uno smottamento. Per la viabilità metropolitana fiorentina interrotte la strada provinciale 610 e la strada provinciale 58 nel comune di Firenzuola, la provinciale 306 nel comune di Palazzuolo sul Segno, la 29 e la strada provinciale 20 nel territorio di Marradi e la statale 67 nel comune di Sangodenzo. La provinciale 477 verso Palazzuolo sul Segno è interdetta ma transitabile per i mezzi di soccorso. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie!